Wella ragazzi ciao da Nick e bentornati qua su The Sims 4 allora ragazzi dove eravamo rimasti Noto che Nickina sta per salire col suo violino ma lasciamo perdere perché Nickina ha bisogno di conversare col qualcuno i suoi figli che stanno a fa Nickina ma t'affan tu chiacchiere con tuo figlio urla contro no perché così tuo figlio non ti parla più Piuttosto fallo divertire un po così magari ti diverti pure te un po allora ragazzi vi ringrazio Riguardo a una cosa che non sapevo o quantomeno non avevo granché non l'avevo granché notata sta cosa Le luci sono accese ma io proprio non ci avevo fatto tutto sto gran caso in tutto questo tempo Luce automatiche tutte le luci e mi pare che rimangono accese lo stesso allora qualcosa non quadra Ah un po' si è sospente No perché qualcuno mi ha detto Nick ma sai che forse i tuoi sim non dormono bene perché praticamente chi cacchio è E vorresti verresti a giocare da me wow Ma sai che quasi quasi ci vado andiamo va è tanto per cambiare Quindi appunto mi stavate a dire che praticamente C'erano le luci accese e i miei sim non dormivano bene Qualcuno dice che era così però Però vabbè io non è che ho notato tutta sta differenza Diciamo nella qualità del sonno ma è buono che mi avete fatto ricordare che le luci erano accese sempre Poi c'è un'altra cosa che mi avete detto ma di questo ne parliamo appena torniamo a casa Ah ma era Arianna che mi ha chiamato io pensavo che era una sua compagna di scuola Porcelloni Ok non avevo mica capito che era la cuginetta che parlava Vabbè ok mia cugina mi ha chiamato vediamo un po' che cosa vuole Parliamo col nonno Nonno ti apposto a macchina dove sta? Non ti bastano i soldi ah Nonno sta diventando povero ah Hai ragione nepotino mio c'è sempre ragione proprio proprio Eh nonno ma gli occhiali non ti levi mai Eh hai vista nipotino mia hai vista non ci vedo più come una volta Ma ci vuole il cannocchiale per vedere da vicino Eh ma ci stanno non io rompere l'enama come si dice no? Vatta a divertire va che qua c'è lo scivolo E a casa tua questo non te l'ho comprato Vatta a divertire dai Vedi se tua cugina viene così un pochettino Relaziona col cuginetto aggiungi il sapone dai Non troppo però eh Oh 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 Mo c'è se mu Lo usi vero? Scivola Scivola con Scivola con chi è sta tipo? Sembra una Una malintenzionata chiedo scusa Arianna Vieni qua forza vai scivolamo Arianna Tate una mossa Lascia stare i pop conni I pop conni Mazza dice Cos'è? Sta a fare un po' di pesce Mazza quanto peperoncino Ma non fa male Fa finta che No sta guardando Ma quando è che te ne vai e me fai mai niente Non ti apace Vabbè me ne vado Me ne vado Non ti guardo più No no Fa come vuoi Lo stomaco è il tuo Nicchina si trova al lavoro Oh Travalliamo Travalliamo bene Dai Lavora sotto Lavora sotto Cos'è? Ok Mazza Vediamo un po' Dai forza Nicchi Eh Nicchi Beh Nicchi Come ti devo chiamare? Sebastiano Sebastiano Dai Forza Io Non è malapena L'ho vista passare Vediamo un po' Che è successo? Troppo scivoloso Aia Non ti preoccupare Sei giovane I dolori passano Ok Che ne dici Di toglierti sta schiuma? Fate una nuotata Così sta schiuma Magari se ne va Se ne va sta schiuma Vero? Mi pare proprio Di no Si se ne è andata Ok Vuoi fare delle vasche? Così ti alleni un po' Che dici? Ci vorrà una vita qua Per salire di livello Però mi diventa Un bambino muscoloso Ma ve lo immaginate Un bambino mega muscoloso? Ne esistono Ne esistono però Va bene Lo portiamo giusto A livello successivo In muscolosità Dai che c'è tua cucina Che ti aspetta Vedi di diventare più muscoloso In fretta Che la gente Ok Beh non mi ha detto niente È diventato muscoloso Punto e basta Ma parla a ca' nonna Va Valla a salutare Che oggi non l'hai salutata A nonna Parla di giocato il ca' nonna Vedi se te ne compra qualcuno Va Oh che fine ha fatto Dov'è? Ok Te Tua cucina è rimasta insaponata Gli devi dire Che si deve lavare Per togliersi il sapone di dosso Non gliene frega niente È contenta Dai non entrare in casa insaponata Non entrare in casa insaponata Rischi di sporcare tutto Nonna Nonna Sì se gli domandi La casetta con le bambole Tua nonna comincia a pensare male Però eh Eh Appunto eh La nonna te lo dice pure Non è una cosa tanto normale Scusa Allora Prenditi il gioco degli adulti Dai Dai Prenditi il gioco della nonna Dai Allora nonna Nonna lo sai che sto per diventare padre? In questo modo veramente ci rimane male la nonna Eh vedi che ci è rimasta male? Era meglio che non glielo dicevi Cos'è? Sta finendo? Momento di gioco No Volevi pop corn Volevo lì pop corn Prima di andarmene via Nonna Aspetta Fammi lì a meno assaporare 20 minuti di tempo per assaporare una Una pozione di pop corn Sbicciate Sbrigate Siete qui Ci vuole 15 minuti per sedersi Avanti sgranocchia va Bravo E' già pratico Sono belli caldi Pensa che li abbiamo fatti due mesi fa di pop corn E ancora sono belli caldi Snaps Sono proprio snaps Sono buoni Senti che odore Due mesi di età Ma sono sempre buoni Grazie della compagnia È stato discreto Diciamo Che vuol dire È stato discreto Non abbiamo mica Non abbiamo fatto niente di strano È stato discreto Di che sta a parlare la cugina? Ma Beh però non mi stanno cacciando Poi voglio dire Vai è il nipote Perché mi devono cacciare Teoricamente Uno Cioè potrebbe anche dormire Potrebbe anche dormire da suo nonno Stanotte volendo Però nel gioco Ste cose ancora Non le hanno granché capite Ok basta pop corn Che se fattati Devo andare a letto Devo andare a scuola Dov'è che devo andare domani? È una lezione fra due giorni E poi i compiti Li hai già fatti Vabbè allora Tutto a posto Andro occupa Torniamo a casa Va Saluto a tutti Saluta la nonna Saluta a nonno Salute Sì saluta Chi te pare Insomma Che è successo Aia E a me che me frega Dice tanto Oggi io di qua Non ci devo stare Chi è questo Signorina Tutto a posto? È rimasta impressionata Per un qualche cosa? Beh Ciao Bella Allora Ecco qua L'ho salutata Perché sapevo Che sebastiano Cioè io Tornavo a casa Allora Dopo aver passato Qualche minuto Spensierato A casa del nonno Io pensavo Veramente Che Che si stava A fare la fidanzatina Pensavo Da prima Non avevo capito Che era Arianna Vabbè Comunque Siamo tornati A casa E a mo Vi ridico Quella cosa Che vi aveva detto Ne riparliamo dopo Allora Mi avete anche Consigliato Un buon metodo Per evitare Che ogni due minuti Devo andare A pulire i letti Dei ragazzini Perché ci stanno I mostri Mi avete detto Che ci sta Una lampada Che permette Mi pare che si chiama Gomola O una cosa simile Vabbè Lampada Da muro Eccola qua Gomala E praticamente Come c'è scritto Gomala 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 Il difensore E' una forza Da non sottovalutare Contro ogni genere Di mostri Quindi Specie di quelli In agguato sotto il letto Potrei metterla qua E teoricamente Parlando Dovrebbe essere utile Controsti maledetti Mostri Spegni Imposta colore Ed intensità A me non mi pare Che posso selezionare L'intensità Questa stanza Ah ok Beh Lavo Non ho capito Eh no Non troppo intenso Sul giallino O magari un colore Più scuro Dai che ragazzi Qua Devono poter Dormire Ok Quindi teoricamente Possono dormire Vabbè tanto loro Ci dormono Tranquillamente Con la luce accesa Allora Devo andare a letto Ragazzi Tu ragazzi Bevi I genitori I genitori Sono ancora Al lavoro Quindi Beh Vattene pure tu A dormire Così qua Tornano tutti In fretta Da dove Devono Tornare E mostri Sotto Il letto Non ce n'è più Cos'è sta roba Un rifugio per animali Locale Ha invitato Nicchina a fare La presentatrice Per un raccolto di fondi Ma lei ha dimenticato Di prepararsi Deve setacciare internet Dalla ricerca di bazellette Sugli animali O improvvisare Setacciare internet Oh Ci ho azzeccato Rendimento Medio Oh Ecco qua Ha ricevuto una promozione Nicchina Adesso Devo specificare Il ramo Ovviamente A Nicchina Prendiamo il ramo Da musicista Perché lei sta Studiando Da musicista Cos'è sta roba Lavora Da 0000 Chi c'è Lavora 24 ore su 24 Boh No Lavora dalle 14 Fino alle 20 E guadagna Qualcosina In più Perfetto Quindi Nicchina A mo Il tuo lavoro Cosa richiede Più violino Ben più violino E suona uno strumento Come sta combinata Decisamente stanca Suona sto violino Va Scrivi un motivetto Su Mi metti Esercitati Lui ancora Sta per tornare Da lavoro Ok ragazzi Poi un'altra cosa Che mi avete detto Nicchia non vai Nel negozio Soprattutto nel ristorante Soprattutto Non uso la famiglia Di Di Nicchia Da tanto tempo Raggiunto il livello 3 di violino No Devo andare ancora A livello 4 Nicchina Continua così Maronna mia Lavare più No Non vedi che l'igiene Ormai è abbastanza Buona Fa un po' Come te pare Però Certo Entra Esce E consumiamo acqua Tanto perché La vogliamo Consumare Sì sì Vai a mangiare Vai a mangiare Come stiamo combinati Nicchina Vabbè Lascia perdere Sto fracasso Vai in bagno Al lavoro Fra 14 ore Vai Vai in bagno A proposito Al lavoro Fra 14 ore Lui deve andare Pure al lavoro Fra 14 ore Ok Allora Andiamo nel negozio Con lui E poi Nel prossimo gameplay E ci dedichiamo Totalmente Magari Alla famiglia Di Alla famiglia All'altra famiglia Insomma Ma che dito Ormai Che c'ha lui Tre giorni liberi Tanto vale Che ci occupiamo Un po' Del negozio Ok Quindi facciamo così Lei ha bisogno Di mangiare Cavolo Prima di andare A letto Vai a mangiare Qualcosa E poi Tutti A nanna E E mo Che cacchio È successo Imbarazzata Però non si sa Quale motivo Boh Togliamo questo Che cacchio È successo What Eh Io so Ho solo Tutto un piatto Non ho fatto Nulla di strano Boh Dai Mangata Va Che cacchio È Il bambino Si è alzato Non c'è un cavolo Da fa Cioè C'è i ragazzini Qua Proprio Ragazzi Vabbè Tanto Possono fare Un po' Quello Che gli pare Piace Ormai Sono grandicelli Ci penso io Al piatto E di fatti Non gliene Poteva fregare De meno Ok Tu Mattia Vai a letto Che così Domani Si va un po' Al negozio Tu Hai finito Vai a letto E E Lascia Pedra A tuo figlio Ok Tu Mangia Alla svelta Ragazzi Che devo andare a letto Non mi piace Che la notte Stai sveglio Anzi Prima Veramente Dove Andare in bagno Più che altro Dai ragazzi Vai in bagno Che te scappa Ecco che Ne arriva un altro Affamato Ma che cacchio Gli faccio fa Ah Esegui un'abilità Visto che Non hai sonno E visto che Non c'hai Un cavolo da fa E l'altro Bambino Ho sentito Tutto Tutto Va bene Che cosa Si è rotto Non si sa Ah ok Ora si sa C'è qualcuno Sveglio In questa casa Meno male Che sei contento Ripara Anzi No Stop Che ripara No 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 Via via E' vero Ma avete detto Nickel Questa cosa Non l'hai cambiata C'avete ragione Lasciamo perdere Le riparazioni Ce ne sarà sicuramente Oh Questo Guarda Però lo volevo Indistruttibile Non ce ne è indistruttibili Indistruttibili Non ce ne stanno Ok Allora Pichiamo questo Che è quello buono Qui ce ne sarà pure Uno di questi scadenti Chiamato Si qualcuno dirà Ma sono quelli vecchi Ma sono quelli buoni Ecco Già sto cosa A me proprio Non piace Ma ci sta Mo qua E' un po' brutto Adesso però E' un po' Bruttino E allora Se ci vado a mettere Uno di quelli Buoni Affidabilità No ma questi sono più affidabili Vabbè ci mettiamo Uno di questo Ok Ok Poi Nicchina A te A sto punto Vai semplicemente Ad asciugare Poi Ragazzini Basta così Ragazzi Allora Tu che devi fare Pure abilità Ok Ok Basta Magna Allora Gioca con Gioca con tuo fratello O così Così fate tutte e due Le vostre abilità Nicchina Intanto Asciuga Tornate A domini Nicchina No Non è la panchina Per carità Vai a dormire Con tuo marito Ok Lasciamo così I ragazzini Giocare un po' Ragazzi E così Migliorano le loro Abilità mentali E soprattutto Per quanto riguarda La scuola Mi pare che Nessuno dei due Deve studiare Esatto Ok Lasciamo quindi Che tutte e due Si divertano a giocare A scacchi Ok Perfetto Mi pare che tutte e due Devono arrivare A livello 4 Anche l'altro Deve arrivare A livello 4 Ok Ok Nicchina Hai riposato abbastanza Ancora no Oh A uno gli scappa A uno gli scappa Non è finita qua Ragazzi No Si è ammalato Aia Alla febbre da cavallo Ah Ah si Ecco Per la febbre Ma mi pare che Mi avete detto Allora Mi pare che si possono Comprare le medicine Cacchio è che rompa L'anema E se Lavica Gioca Chiacchiere Mi sa che Le medicine Le può comprare Solo la mamma Vabbè Dormi Mettiti a letto Ah che E tu stai lontano A tuo fratello Tu Chi è quello più svegli E quello Insomma Te alzati Ah uno Non gli ha detto Di andare a letto Ok C'è un computer qua Vediamo se possiamo Comprare delle medicine Carisma Carriera Do cacchio E Internet Oh raga Non riesco a trovare niente Per quanto riguarda Le medicine Proprio Non trovo niente Non so come fare Per il Forse gli è passata Dai Un po' a letto Magari gli è passata La febbre Si spera Ok gioca con Continua a giocare Con il tuo fratello Che è migliorata In abilità Ok Mattia Te Dobbiamo andare al lavoro Prima magari Ti guardi un po' di tv Fai quello che te pare E poi Andiamo a lavorare Un po' Abbiamo un po' Il negozio Che è da tanto Che è chiuso Tu Necchina Ti alzi E continui A strampellare Con il tuo Violino Brava Mi pare che te Devi continuare Con il tuo Famosissimo Violino Ok Devo arrivare Cosa A livello 4 E poi va Al lavoro Pure lei Ok Intanto Mattia Si va A divertire Un po' Quanto manca Per salire Di livello Ninchina Dai che devo Andare a aprire Il negozio Dai Datta una mossa Ci vuole una vita Dai livello 4 Livello 4 Livello 4 E ci devo andare Ispirata Già è una cosa Molto migliore Non rompere Ok Ormai aspettiamo Che Nicchina Va un attimo Al lavoro Dai 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 Che devo andarci Pure ispirata Fatto Ispirata 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 Fai una doccia Vai Riflessiva Ne ha pure bisogno Date una mossa Dai che devo andare al lavoro Forza 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 Perfetto E così Nicchina Se ne va al lavoro Nel meglio Delle sue Possibilità Ispirata Tutte le barre Al massimo Il ragazzino Che c'ha ancora La febbre Io non lo so Con la febbre Che devo fare Le medicine Non le trovo Vediamo un po' Nel frigo Magari il frigo Mi sa dire qualcosa Completamente Butta il cibo avariato L'altro Che fa Si guarda la tv Però In abilità Purtroppo Niente da fa Gioca Dai Continua Con le tue abilità Nicchina Se ne va Ah quella Pensa a mangiare Proprio ora Pensa a mangiare Vai al lavoro Dai Ok Questo Si può togliere No Ok Nicchina Se ne va al lavoro Perfetto Ci va pure Nel migliore Dei modi Con tutte le barre Al massimo Lavora Sodo Mi raccomando Nicchina Lavora Sodo Te Mattia Stai andato in bagno Vai in bagno Ok Oh cacchio Si è rotto qualcosa Tanto per cambiare Accidenti Qual è il problema Eh Il padre non è vicino E voglio dire Ma se sei andato al lavoro Che ci vuoi fare Ok Eh raga Ma il tempo Vedo che è volato via Mi sa che non ce la facciamo Ad andare al lavoro Ad andare in negozio Ormai tanto vale Che nel prossimo gameplay Vado direttamente Nel ristorante Con la famiglia Di Di Nicchia Ormai il tempo È volato via Mmm Dai Ormai che ci siamo Allora ripara sto coso Tanto alla fine Non lo so Come stai combinato Con le abilità di manuale Livello 2 Vabbè dai Ci arrangiamo No Basta che lo riesce a riparare Sempre meglio di niente Scafus Trova componenti Asciuga Questo lo posso buttare io Oh yeah Pure questo vale soldi Meglio di così Ci siamo quasi ragazzi Vella nave incomicità Dai Ancora pochi secondi E finalmente Sta cosa è fatta Dai resisti Oh Finalmente Livello 9 Incomicità Ce voleva proprio Che ne puoi andare a dormire Vai 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 Fatto 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 Abbiamo tutto al massimo Così Si spera che Se becco un bel aumento In carriera Finalmente Mattia Ok va bene ragazzi Allora per il momento Ci fermiamo qua Nel prossimo gameplay Vi prometto che andiamo Nella Nell'altra famiglia E andiamo anche un po' Nel ristorante Che è da tanto Che non ci diamo un'occhiata Ok Almeno adesso Con le carriere Stiamo avanzando Il che permette di guadagnare Un po' di soldi Va bene ragazzi Quindi il gameplay finisce qua Spero che vi è piaciuto Come sempre Mi raccomando Commentate Lasciatemi i vostri consigli Iscrivetevi al canale Se non siete già iscritti Ci becchiamo presto Ciao alla prossima Ragazzi